è più facile essere ingannati che credere di essere stati ingannati quando una ragnatella di bugie ben confezionata è stata distribuita poco a poco alle masse per più generazioni la verità sembrerà del tutto assurda ed i portatori di questa verità dei pazzi furiosi la storia è scritta dal vincitore i fatti sono decisi da chi controlla il nostro ambiente in questo mondo di menzogna universale è nostro dovere individuale avere il coraggio di mostrare e diffondere la verità